. Dopo il brutale attacco terroristico che ha colpito Parigi, OPParis è nata per oscurare in rete quel cancro che i governi diffidano dal volere stirpare per l'evidente movimento di denaro che gira attorno all'Isis. Anonymous non si ferma davanti agli attacchi informatici in risposta ai nostri 12.000 e oltre profili jihadisti oscurati negli ultimi 15 giorni. Ci hanno insultati, ci hanno minacciati di morte, ci hanno persino copiati nel tentativo di renderci impotenti, ma Anonymous è una legione solida, risoluta e resiliente che in tutto il mondo agisce per il bene dei propri fratelli offesi nei loro diritti umani, calpestati da vigliacchi assassini e criminali. Isis, stiamo arrivando sempre più vicini ai tuoi padroni, sappiamo che ci temete, sappiamo che vi nascondete come topi in trappola. Ricordate, Hop Paris non si fermerà. Noi siamo Anonymous. Noi siamo Legione. Non perdoniamo, non dimentichiamo, aspettateci. Non perdono, 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 non perdono. Grazie a tutti.